Buongiorno ragazzi, per fare questo lavoro avete bisogno di un foglio riquadrato di due matite 2H e HB, di due squadre, una gomma, un tempera matite e un cerchiografo. Innanzitutto con la matita 2H tracciate una linea orizzontale a metà del foglio seguendo i riferimenti sulla squadratura. Allo stesso modo tracciate una riga verticale sempre con la matita 2H. Ora avete tracciato i due assi verticale e orizzontale del foglio. Dovete tracciare altre due linee verticali che dividono la metà di sinistra e la metà di destra del foglio. Quindi dovete misurare la metà di sinistra prima, posizionate la squadra come vedete nell'immagine, e misurerete che la metà del foglio misura in orizzontale 14,8 cm. Dovete misurarne la metà, quindi 7,4 cm, e tracciate in alto un piccolo segno verticale di riferimento. Allo stesso modo posizionate la squadra nella parte bassa della squadratura, misurate 14,8 cm, che è la larghezza del foglio, a metà, e poi tracciate un piccolo trattino verticale in basso, questa volta, in corrispondenza della misura di 7,4 cm. Ripetete ora la stessa operazione, misurando nella parte di destra, prima sopra e poi sotto, come vedete nell'immagine. La squadretta è posizionata in fondo, in basso, a destra. In alto, a destra, è già stato disegnato il trattino. Con la squadra, adesso, congiungete il trattino che c'è in basso e in alto, sia nella parte di sinistra, sia nella parte di destra. Otterrete così il foglio diviso in otto parti. Ora dobbiamo disegnare nella metà di sinistra un quadrato con il lato di 12 cm, centrato nella metà di sinistra del foglio. Allora, posizionate la squadra, come indicato nell'immagine, in modo che il sesto centimetro, il 6, coincida con il centro della metà di sinistra del foglio. e tracciate un piccolo riferimento sull'asse orizzontale in corrispondenza dello 0 e del 12. 6 più 6, 12, è il lato del quadrato. Ripetete la stessa operazione, questa volta posizionando la squadra in verticale. quindi il 6, il sesto centimetro, deve coincidere con l'asse orizzontale e fate un segno di riferimento sullo 0 e sul 12. A questo punto avete quattro riferimenti, due sull'asse orizzontale, due sull'asse verticale. Ora dobbiamo tracciare due linee verticali. Quindi, per farlo, dobbiamo innanzitutto posizionare una squadra, come indicato nell'immagine, appoggiandola al bordo inferiore della squadratura. La seconda squadra va appoggiata sulla precedente, in modo da poter tracciare delle linee verticali. La posizionate in corrispondenza del primo segno di riferimento, come vedete nell'immagine. Come vedete, la squadra che sta appoggiata al bordo inferiore della squadratura deve essere tenuta ben fissa sul piano del disegno. Tenendo sempre fissa la squadra al bordo inferiore della squadratura, spostate la seconda squadra in modo da tracciare una seconda linea verticale in corrispondenza del secondo segno di riferimento. Avete tracciato due linee verticali parallele all'asse verticale. Ora dobbiamo tracciare due linee orizzontali, che sono gli altri due lati del quadrato. Quindi ci serve un riferimento appoggiato bene al bordo sinistro della squadratura. Appoggiamo la squadra, come è indicato nell'immagine. L'altra squadra, questa volta, va disposta in modo da poter tracciare delle linee orizzontali. La posizionate, come vedete, nell'immagine, in corrispondenza del segno di riferimento che c'è sull'asse verticale, il segno di riferimento che c'è più in alto. Tracciata la prima linea orizzontale in alto, spostiamo la squadra più in basso e tracciamo il lato inferiore del quadrato. Abbiamo completato il primo quadrato. Come vedete, non dovete preoccuparvi se le linee sono più lunghe del necessario. Sono linee sottili. Vi ricordo, tracciate con la matita dura, la 2H. Ora ripetete la stessa operazione nella metà di destra del foglio. Quindi, prima misurate i due riferimenti sull'asse orizzontale in corrispondenza dello 0 e del 12. Poi, tracciate i riferimenti sull'asse verticale, posizionando la squadra, come vedete, nell'immagine, tracciando sempre i due riferimenti, in corrispondenza dello 0 e del 12. Ora avete a disposizione i quattro riferimenti sui due assi verticale e orizzontale della metà di destra del vostro foglio. Servendovi delle due squadre, tracciate il primo lato del quadrato verticale. Qui vedete meglio in questa immagine come si tengono le due squadre. Tracciato il primo lato verticale di sinistra, spostate la squadra e tracciate il lato di destra, tenendo sempre ben fissa la squadra al bordo inferiore della squadratura. Ora dovete tracciare i due lati orizzontali del quadrato. Allora posizionate la squadra di riferimento sull'asse verticale del foglio, che divide a metà il foglio. Appoggiate la seconda squadra sulla prima e tracciate il lato superiore del quadrato. Spostate la squadra e tracciate questa volta il lato inferiore. Avete completato la costruzione dei due quadrati. Dobbiamo ora procedere con le rifiniture del disegno. Utilizzando una gomma bianca, ben pulita, cancellate le parti delle linee che debordano rispetto alla forma del quadrato e cancellate anche tutti gli assi. Dopo questo lavoro deve risultarvi il disegno dei due quadrati a tratto sottile, perché l'avete eseguito con la matita 2H e senza nessuna linea inutile. A questo punto vi serve la matita HB. Fate bene la punta e utilizzando una squadra appoggiata bene ai lati del disegno rinforzate tutte le linee del perimetro dei due quadrati. Alla fine del lavoro questo sarà il disegno che vi risulta. Avete predisposto i due quadrati per poter andare avanti con la vostra opera. All'interno dei due quadrati dovete disegnare una serie di cerchi come vedete nei due esempi tratti dalla pagina che vi ho allegato usando il cerchiografo e colorando alla fine il disegno con colori a matita oppure con dei penarelli a punta sottile. Quando utilizzate il cerchiografo dovete prima cercare di capire quali sono le dimensioni dei cerchi che dovete tracciare calcolando le proporzioni rispetto al disegno che avete nella pagina che vi ho allegato e poi fare bene la punta alla matita e far aderire bene la punta alle pareti del foro circolare di ciascun cerchio che dovete disegnare. Buon lavoro!